Buonasera e benvenuti al notiziario di prealpino.it delle ore 19. Iniziamo con Vanzaghello dove sono stati trovati due persone morte. Il sospetto è che lei abbia sparato a lui e poi si sia buttata dal balcone. L'altra ipotesi al vaglio è che lui si sia ucciso e lei trovandolo morto si sia lanciata dalla terrazza. È ancora tutto da accertare la dinamica della tragedia avvenuta oggi poco prima delle 15 in un appartamento in via Arno al numero 2. Sul posto chiamati dai vicini sono accorsi i carabinieri che hanno rinvenuto a terra in cortile il cadavere di una donna italiana di 57 anni verosimilmente lanciatasi dalla terrazza sovrastante e accanto al suo corpo privo di vita un revolver. Saliti in casa i carabinieri hanno trovato nell'appartamento un uomo italiano di 62 anni ucciso da un colpo di pistola alla tempia destra. L'arma trovata accanto alla donna era regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo deceduto. L'indagine è ancora in corso, i carabinieri sono ancora sul posto e stanno ultimando i rilievi. E ci spostiamo a Legnano, nuovo provvedimento contro il Land on Life, il locale notturno molto conosciuto dai giovani. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito delle attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici, ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni al locale notturno di via Maestri del Lavoro, che dovrà così rimanere chiuso. Ieri i poliziotti del commissariato di Legnano hanno notificato il provvedimento, in quanto le indagini condotte hanno fatto emergere come l'esercizio commerciale rappresenta un luogo di ritrovo di giovani, talvolta anche minorenni, che fanno uso smodato di sostanze alcoliche, dando origine a violenti contrasti con il conseguente intervento del personale medico. Rallentamenti a coda in autostrada nel primo pomeriggio di oggi, fra Sorbiate Arno e Gazzada in direzione Varese, a causa di un incidente in cui sono state coinvolte due auto. Una si è rimasta gravemente danneggiata nella parte posteriore. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, con due ambulanze e l'auto menica. Due le persone rimaste ferite in modo non grave. Si tratta di due uomini di 24 e 37 anni. È stato ritrovato il pensionato 69enne, che risultava disperso da ieri in Ossola. L'uomo, classe 1953, era in stato confusionale nei prati di Cuzzego, una delle frazioni di Beura a Cardezza. Di lui si erano perse le tracce, come detto, ieri pomeriggio e stamane all'arba erano scattate nuovamente le ricerche con un imponente impiego di uomini e mezzi. A mobilitarsi anche sulle alture del paese verso la Val Grande sono stati i volontari della stazione di Domodossola del soccorso alpino civile, i militari del SAGF, i carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile. Nel primo pomeriggio il lieto fine. Con una solenne celebrazione in Duomo a Milano colmo di fedeli, stamani l'arcivescovo Mario Delpini ha ordinato 22 nuovi sacerdoti della diocesi. Tre sono del Baresotto. Si tratta di Don Mauro Ambrosetti, 29 anni, di Varese. Di Don Gabriele Boff, 25 anni, di Crugnola, il più giovane di tutti. Di Roberto Uboldi, 38 anni, di Tradate, ex insegnante alle scuole elementari, alle medie e al liceo. Tre anche i nuovi don che vengono dall'Alto Milanese. Si tratta di Massimo Locatelli, 58 anni, di Arluno, il più maturo degli ordinati. Di Gianluca Chemini, 29 anni, di Pogliano Milanese e di Matteo Bienati, 30 anni, di Legnano. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di preapina.it torna domani sera alle 19. Buona serata e buona domenica.